Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella in lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione I soldi infatti ne hanno ricavato meno bronzo del previsto dunque il rame contiene impurità Giovanni auditore voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa Temo di non sapere nulla di tali documenti Sta mentendo! Devo avvicinarmi In assenza di qualunque prova contraria alle accuse Mi vedo costretto a dichiararvi colpevole Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte Sei tu il traditore, Umberto! Sei uno di loro! Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio! Lo giuro, noi ti... Padre! Laggiù! Prendete il ragazzo! È uno di loro! Ti ucciderò per ciò che hai fatto! Guardie! Arrestatelo! Uccidetelo! Ti conviene scappare, ragazzo? Svelto! Scendetelo! Con i tuoi visceri ci decoreremo la piazza Per prima cosa ti taglieremo i miei piedi! Per prima cosa ti taglieremo la piazza Per prima cosa ti taglieremo i miei piedi! Guarda! Grazie a tutti. Grazie a tutti.